Illustra l'interrogazione numero 1382 concernente la posizione italiana rispetto all'evoluzione degli scenari bellici in Ucraina e in Medio Oriente. Prego, Senatore Renzi, ne ha facoltà per tre minuti. Grazie, Signora Presidente, Signor Ministro e Vicepresidente del Consiglio, onorevoli colleghi. La nostra interrogazione, Signor Vicepresidente del Consiglio, è molto semplice. Noi abbiamo la Presidenza del G7, lei è il Presidente di turno del G7 in un 2024, segnato da rilevanti fatti di politica internazionali cui facciamo riferimento nella nostra nota. L'Ucraina, il Medio Oriente, e lo vediamo in queste ore, l'Africa, di cui noi parliamo poco, ma Russia e Cina parlano, anzi fanno molto. La nostra impressione è che l'Italia, nella Presidenza del G7 esteri, non abbia brillato, che lei, Ministro, non abbia brillato. Non ricordiamo una idea, una proposta che sotto la sua Presidenza, in questo 2024 così complesso, abbiamo, non dico portato a casa, ma neanche messo sul tavolo. Lei, sull'Ucraina, è l'unico Ministro degli Esti del G7 che ha avuto una posizione diversa dagli altri. Nel Medio Oriente c'è stato meno di tutti gli altri suoi colleghi ministri. Nell'Africa, persino la Meloni, c'è stata più di lei, ha fatto la Ministra di Interim. Allora, io le chiederei per una volta, se, senza leggere la nota degli uffici, lei riesce a dirmi un'idea su cui pensiamo di caratterizzare il G7 da qui alla fine dell'anno. E, già che ho ancora 20 secondi, siccome lei è stato molto bravo, secondo me, nel mese di agosto a porre un tema che sulla politica estera rileva il giusto, ma sulla politica interna come Vicepresidente lei ha messo in campo, cioè l'Oius Scole, e noi siamo d'accordo con lei, se dobbiamo credere al Tajani di agosto, che è per il sì all'Oius Scole, o alla versione aggiornata del Tajani di settembre, che è per il sì a Salvini e Meloni e per il no all'Oius Scole. Così almeno capiamo di cosa si è occupato in questi mesi il Vicepresidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri. La ringrazio molto. Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'On. Antonio Tajani, risponde all'interrogazione illustrata per tre minuti. Prego, Ministro. Grazie, Signor Presidente. Presidente, mi permetta di rispondere soltanto alla prima parte, perché non è questo il luogo di fare un dibattito sul diritto di cittadinanza, si farà in altri luoghi, ma mi sembra che si debba dare una risposta agli interroganti sulla questione della politica internazionale, non su quanto riguarda la politica interna. Si è chiesto come siamo collocati. A livello internazionale la posizione del Governo è chiara e inequivocabile. Europeismo e atlantismo sono le stelle polari della nostra politica estera. L'appartenenza all'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica e il rapporto di forte amicizia con gli Stati Uniti sono la base di tutte le nostre scelte strategiche e guidano la nostra azione di fronte alle principali sfide che stiamo affrontando in questa fase storica particolarmente complessa. Il nostro Governo può rivendicare con orgoglio di essere sempre stato in prima linea al fianco dell'Ucraina. Il sostegno a Kiev, alla sua libertà, indipendenza e sovranità, è pieno e incondizionato. Proprio in quest'ottica ho voluto copresidere a New York, con il segretario di Stato Blinken e il nuovo Ministro degli Esteri Sibia, una sessione speciale del G7 a sostegno del settore energetico ucraino. Abbiamo concordato una serie di ulteriori misure a sostegno della popolazione civile per far fronte ai bisogni più immediati, anche in vista dell'arrivo dell'inverno. Ho valorizzato in tal senso i fondi stanziati dal Governo, il contributo dell'azienda italiana e l'accordo che abbiamo concluso con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, li ho firmati con il Ministro precedente, prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro per ripristinare la capacità della principale società idroelettrica, Ucraina. Questo è stato fatto dalla Presidenza italiana del G7. Il disegno di legge di raffiditifiche è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 30 agosto ed è ora all'esame del Parlamento per quello che auspico sarà una rapida approvazione. Mi auguro anche con il sostegno dell'interrogante. In ambito G7 tutti hanno apprezzato l'impegno del Governo italiano per la ricostruzione, come testimoniato anche dall'importante conferenza internazionale che ospiteremo nel 2025. Voglio annunciare sin d'ora che stiamo lavorando per coinvolgere il Parlamento in una specifica sessione dei lavori di questa conferenza. Sosteniamo CHIV senza se e senza ma anche dal punto di vista politico e militare. L'ho ribadito anche nel mio recente intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Abbiamo approvato nove pacchetti di sostegno militare per difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina in coordinamento con gli alleati della NATO e dell'Unione Europea. Mi fa piacere informare l'interrogante che durante la riunione del Consiglio Europeo Affari Esteri informale l'alto rappresentante ha proposto di abolire qualsiasi limitazione all'uso delle armi che andiamo all'Ucraina. il Consiglio Affari Esteri non ha approvato la proposta dell'alto rappresentante Borrell. Quindi l'Italia non è assolutamente isolata e non risponde a verità ciò che lei ha detto. La diceva che abbiamo approvato nove pacchetti di sostegno militare quindi un sostegno a 360 gradi apprezzato da chi è riconosciuto da tutti i nostri partner. Anche sul Medio Oriente la nostra posizione è molto chiara. Lavoriamo in stretto coordinamento con i nostri principali alleati con i partner regionali. Gli obiettivi che ho ribadito anche ieri nella riunione del Quintetto Stati Uniti, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia cessate il fuoco a Gaza e in Libano nuovi aiuti umanitari alla popolazione civile ripresa di percorsi negoziali per la stabilizzazione del confine israelo-palestinese e la nascita di uno Stato palestinese che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele. Il nostro Governo resta impegnato come Presidente del G7 in seno al Quintetto, alle Nazioni Unite e all'Unione Europea per favorire il dialogo e contribuire alla pace. Continueremo a lavorare in questa direzione con la forza di una politica estera che ha ben chiari i propri valori, la propria identità e l'interesse del Paese che questo Governo ha l'onore di rappresentare. Grazie Signor Ministro. Signor Ministro non ci ha convinto ma non è una novità e non è neanche una sorpresa. Al netto di un particolare su cui la smentisco e l'ha detto che io mi sarei confuso sulla solitudine Signor Ministro ho fatto riferimento al fatto che l'Italia è l'unico Paese del G7 che ha quella posizione sull'Ucraina e nel G7 non c'è l'Ungheria. Ci sono altri Paesi che quindi hanno una posizione diversa ma non è tanto la singola cosa, è il principio. Signor Ministro, io le ho chiesto di fare di più il Ministro degli Esteri. Lei nelle ore in cui arrivavano i missili, ahimè, dell'Iran su Israele postava questo tweet benvenuta alla consigliera regionale Linda Elezzi o Elezzi eletta nel collegio della provincia di Accona cresce ancora la squadra di Forza Italia nelle Marche che è un tema di cui tutti noi ci ralleghiamo per Forza Italia delle Marche ma il punto fondamentale è che il mondo sta scoppiando e non c'è una proposta italiana credibile al tavolo del G7 perché lei per andare a visitare l'Africa subsahariana probabilmente aspetterà che si apra una sezione di Forza Italia in Congo o in Namibia così finalmente ci va è l'unico che non ci è mai andato ci manda la Meloni, meno male ci va la Meloni quanto alla battutina iniziale e termino stando nei due minuti è vero che lo Ius Scole non era l'oggetto della domanda ma non era difficile per lei rispondere sì lo voto oppure no non lo voto perché il Tajani di agosto ha detto in tutti i luoghi e in tutti i laghi voteremo lo Ius Scole chiunque ci sia il Tajani di settembre ha detto non lo voteremo perché Meloni e Salvini non vogliono abbiamo inaugurato la versione del Tajani di ottobre non è il Tajani del sì di agosto non è il Tajani del no di settembre è il Tajani del bo buon ottobre anche a lei signor Ministro grazie a tutti grazie a tutti